Pinarolo l'ha accolto a braccia aperte tutto il disagio di Andrea Bertola grazie grazie sono folle tra l'altro arrivo da Collegno perfetto e a casa io a casa in camera da letto sull'anta dell'armadio ho appeso un fiorellino un fiorellino di vetro e ha dei teneri petali lilla e serve a coprire un buco che ho fatto con un pugno una volta che mio figlio mi ha fatto arrabbiare e questa è la storia purtroppo vera che racconto ogni anno il primo giorno di scuola ai miei alunni giusto per farmi conoscere e mettere le cose in chiaro io effettivamente ho un serio problema di gestione della rabbia che non mi aiuta tantissimo nel mio lavoro di insegnante di matematica alle medie 5 per 7? 30 6 per 3? 20 5 per 1? 6 al terzo errore di solito perdo la pazienza e lo dico chiaramente ragazzi le tabelline sono difficili non chiedetemele più a scuola ho spaccato di tutto un tablet contro la cattedra i svariate copertine di libri lanciandoli per terra dei mouse una volta ho tirato una sedia contro la finestra vabbè tanto la finestra si può sostituire la sedia anche il ragazzino che c'era seduto sopra anche mia moglie mi fa incazzare spessissimo poi lei ha questa pessima abitudine non so perché di svegliarmi proprio mentre io sto dormendo profondamente beato come ieri sera ma che bisogno c'era dico io era un rettilineo ma me lo sono chiesto eh qual è il motivo per cui io mi arrabbio sempre così tanto mi sono anche dato una risposta probabilmente io mi arrabbio tanto perché ho delle aspettative troppo alte su me stesso mi do degli obiettivi irraggiungibili non li raggiungo e poi rimango frustrato come quella volta in cui mi sono messo in testa di scalare il monte Everest il monte Everest infatti non ce l'ho fatta mi sono dovuto fermare prima di raggiungere la vetta a causa del maltempo quando sono uscito di casa con legno piovigginava ultimamente le cose vanno un po' meglio però ho notato che vanno un pochino meglio e come mai? non lo so sta migliorando il mondo? non credo sono migliorato io? nemmeno no 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 mi drogo no no io posso vantarmi davvero di non aver mai provato nessuna droga in vita mia le ho sempre comprate a scatola chiusa sto scherzando anzi come dico sempre ai miei alunni ai miei figli lo dico anche voi anche ai presentatori state lontani dalla droga dalla mia poi fate quello che vi pare no in realtà in realtà le cose vanno meglio mi arrabbio di meno perché semplicemente ho delle aspettative più basse su me stesso mi accontento come professore come insegnante mi accontento di essere un insegnante mediocre ah che bello l'altro giorno sono entrato in classe subito dopo la lezione di grammatica e alla lavagna c'era scritto dittongo e ho chiesto ai ragazzi ma cosa vuol dire? mi hanno spiegato che nella lingua italiana il dittongo è l'unione di due vocali bla 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 al che anche io ho voluto dire la mia dittongo nel culongo boh perfetto basso mediocre perfetto ottimo come padre mi accontento di essere sufficientemente presente solo facciamo ridere a me piace dittongo nel culongo bellissimo anche come genitore mi accontento di essere sufficientemente presente con i miei figli quando sono a casa giochiamo a nascondino a loro piace loro contano fino a 30 40 50 mila io vado in sala scommesse e siamo tutti contenti perfetto aspettative basse bassissime asticella bassa sempre bassa asticella barba alta soltanto durante le gare di limbo quando gioco a limbo alta ma io a limbo sono negatissimo una volta a parigi ho sbattuto la testa sotto l'arco di trionfo quindi non è il mio non è il mio e niente quindi il segreto della calma è l'umiltà e se io avessi un euro per tutte le volte in cui sono stato sia calmo sia umile a quest'ora potrei quasi fare la spesa con il carrello grazie a tutti grazie Andrea Bercora grazie 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 grazie